Frana, un costone di roccia, Monte di Procida, provocando un'enorme nuvola di fumo sulla spiaggia. Panico sui lidi di Miliscola, nota località balneare nell'area di Bacoli, affollata di bagnanti. Il cedimento è avvenuto attorno a mezzogiorno, con le spiagge piene. Proprio in quella manciata di minuti alle 11.59 c'era stata una scossa di terremoto ai campi flegrei, ma abbastanza distante, con epicentro in zona Agnano-Pisciarelli e di magnitudo bassa, stimata in 2.6. Secondo l'osservatorio Vesuviano e l'INGV, i due episodi non sono collegati. La frana è avvenuta in una zona già interdetta al pubblico, un costone già sotto attenzione e oggetto di monitoraggio a causa delle sue condizioni precarie.